Alessandro Santoro, giornalista, direttore responsabile di Pharmacy Scanner, benvenuto su Radio QRS. Grazie mille, grazie per l'invito. Dunque, oggi parliamo in particolare di farmaci online e oggi, se non ricordo male, ci sono anche approfondimenti, convegni ogni anno a Cosmofarma, in realtà da molto tempo, approfondimenti proprio sui farmaci online e partiamo però da quello che è il panorama europeo per quanto riguarda questo argomento. In alcuni paesi, penso Germania, Regno Unito, la vendita di medicinali online è un po' più sviluppata rispetto all'Italia, le chiedo il motivo di questo e quali differenze ci sono in particolare rispetto al nostro paese. Allora, sì, ieri la mia rivista ha organizzato un convegno proprio sull'e-commerce del mercato della farmacia in Europa. La prima evidenza è che c'è una forte eterogeneità di esperienze. Abbiamo paesi, come diceva lei, Germania, Gran Bretagna, anche l'Olanda, dove per esempio si può vendere online il farmaco con obbligo di ricetta e quello senza ricetta. Altri paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna, in cui è consentita la vendita online solo del farmaco senza ricetta e soltanto su siti gestiti dalle farmacie autorizzate, dalle farmacie calce e mattoni, come si suol dire. Altri paesi come la Svizzera, dove addirittura il contrario, si può vendere online il farmaco con ricetta ed è vietata la vendita del farmaco senza ricetta e via di questo passo. Riassumendo, più o meno si può dire che i paesi dove è consentita solo la vendita online del farmaco senza ricetta e quelli dove è consentito anche il farmaco con ricetta si equivalgono. Fanno 50-50 praticamente. Anche perché c'è una direttiva europea risalente un paio di anni fa che fissa in sostanza una soglia minima. Dice ai paesi membri il farmaco senza ricetta non potete vietare la vendita online. Questo è il minimo. Francia, Italia e Spagna come dicevo hanno scelto il livello minimo, altri si sono orientati o meglio erano anche già orientati su una maggiore libertà di scelta. I motivi, mi chiedeva, essenzialmente culturali. I paesi del nord da sempre, come dire, il consumatore inglese, tedesco ha una libertà, ecco diciamo si sente, rivendica una libertà di acquisto più ampia del consumatore italiano o francese. Mediterraneo. Mediterraneo, esatto, che invece preferisce ed è abituato a canali regolamentati e anche garantiti per carità. Farmaci online li possiamo definire un po' croce, un po' delizie, insomma, dei farmacisti e qual è il fascino esercitato dalla vendita e dall'acquisto di medicinali online? Vendita ovviamente lato farmacista e acquisto ovviamente lato consumatore. Allora, lato consumatore, quello che è emerso ieri attraverso le valutazioni di vari esperti è che tendenzialmente il consumatore italiano sta cominciando a scoprire l'online sul farmaco o sugli altri prodotti venduti in farmacia, quindi non farmaco per esempio integratori o prodotti per la salute perché sta maturando dei comportamenti di acquisto online già nelle altre categorie merceologiche, cioè sempre più spesso tende ad acquistare su Amazon, sui siti online dei supermercati, cose del genere e quindi acquisisce familiarità su quei canali e di conseguenza comincia anche a praticare gli stessi percorsi anche sul canale farmacia. È questo lato consumatore. Lato farmacista, beh, c'è l'effetto traino, nel senso che nel momento in cui il farmacista si rende conto che questo è il fenomeno che si sta realizzando, beh, deve fare i suoi conti e chi ha maggiore dinamismo magari si apre più velocemente a questi cambiamenti, chi invece tende ad essere più conservatore lo fa con più fatica. Sono circa 750 le farmacie in Italia che hanno il bollino del Ministero della Salute per poter vendere farmaci ovviamente senza obbligo di ricetta, l'abbiamo già spiegato online, ma sono circa una cinquantina che riescono a fare davvero questo tipo di attività con profitto. Si sottovaluta forse un po' la difficoltà di vendere anche online? Ma non è che si sottovaluta, diciamo che innanzitutto uno fa la registrazione perché c'è la trafila burocratica da fare, quindi dice vabbè la patente me la faccio già, poi valuterò se ne vale la pena. Effettivamente l'e-commerce, lo stanno scoprendo i farmacisti anche sulla loro pelle, non è come aprire un sito web e metterci su due foto, è veramente gestire un'attività parallela a quella della farmacia e quindi servono risorse, servono persone, serve competenza. Questo è il motivo per cui finché c'è da appunto, come dicevo, finché c'è da prendersi la patente lo fanno parecchi perché poi quando c'è da aprire il sito internet e cominciare a vendere o quantomeno anche a usarlo come vetrina, beh, molti si rendono conto che non è proprio una passeggiata. Immagino che ci debbano essere anche competenze di marketing, organizzazione, logistica, conservazione eccetera. C'è anche da dire, do qualche numero giusto per capire, oggi come oggi il mercato della farmacia, quindi tutto quello che si vende in farmacia, quello che passa dall'online è come valore, si aggira sui 155 milioni di euro, quindi siamo a una quota decisamente marginale. Quello che però è incoraggiante è che cresce a una velocità considerevole, giusto per dare il parallelo con il largo consumo, nel 2018 l'online del largo consumo è cresciuto del 45%, è una cifra considerevole. Quindi il presente è poco interessante per invitare grandi numeri di esercizi, però le prospettive sono incoraggianti. Sono incoraggianti e immagino che questo era anche un po' il dubbio quando si cominciava ad acquistare le scarpe, i pantaloni su internet, ma mi arriveranno davvero. La sicurezza degli acquisti online ovviamente ha maggior ragione quando si parla di farmaci. L'agenzia delle dogane spesso, come dire, prende, insomma, blocca dei carichi di medicinali che ovviamente nel migliore dei casi non fanno niente, nel peggiore dei casi fanno male. Quanto è importante ovviamente il lato sicurezza? Allora, è estremamente importante, opinione personalissima, non è però secondo me corretto diciamo associare l'e-commerce farmaceutico fatto nelle farmacie e attraverso i canali regolari con l'e-commerce del contrabbando, perché quello che passa dalle dogane vuol dire che è roba acquistata in siti esteri, dove la sicurezza effettivamente è tutta estremamente... Da valutare. Esatto. Il motivo per cui l'Europa ha introdotto questo logo, questo bollino, che è quello che si mettono poi sui siti le farmacie che si registrano, è proprio per dare una certezza. Questo è il sito di una farmacia che è stata autorizzata dal Ministero. Quindi il messaggio eventualmente da dare è comprate farmaci, se vi piace l'e-commerce che ha delle attrattive, compro dove voglio, quando voglio, eccetera, eccetera, fate sempre attenzione che ci sia il bollino, che è quel quadratino con la croce verde delle bande verdi e grigie, che certifica che è registrato. Così non ci sono problemi e ripeto, questo è la faccia illuminata del pianeta internet. Quella nascosta, non ha i bollini, è spesso... Il motivo per cui la gente molto spesso sa di andare su un sito illegale, lo fa comunque... Principalmente sono due. Numero uno, compra cose che vorrebbe far vedere il meno possibile. Le pillole contro la disfunzione erettile, certi prodotti, gli anabolizzanti o cose del genere. Oppure perché, come dire, vede degli sconti... Per risparmiare. Esatto, ma così forti che dice, ah lo voglio immediatamente. E queste sono le persone che poi comprano anche il Duomo, il primo che passa. Quindi ecco, diciamo, le avvertenze per carità giustissime, ma non è... Diciamo, si corrono gli stessi rischi quando si va a comprare in un negozio tradizionale e si scopre che è un peracottaro, uso un termine... Per concludere bisogna essere anche dei bravi consumatori. Esatto, certo, certo, certo. Alessandro Santoro, giornalista, direttore responsabile di Pharmacy Scanner, grazie per essere stato con voi. Grazie a voi. È stato un piacere, noi torniamo fra pochi minuti, ora un fuori onda e torniamo fra poco. Grazie a voi. Grazie a voi.